bene a tutti i ragazzi e bentornati in questo nuovo video oggi siamo tornati su orraison ovviamente con l'undiciasima puntata andiamo avanti bene dobbiamo aggiungere il tumulo l'assediamento farò raggiungere che è un kit di arti filoso nobica un corruttore potrebbe essere un'impresa mi stanno cercando e gliss come aveva detto non puoi spuggire no io me ne vado bella dateci dentro pensavo non si sarebbero mai arresi già vuole questi cosi va tutto bene non scacciate non scacciate non scacciate non scacciate non scacciate Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ok ragazzi, ci siamo. Bene ragazzi. Allora. Dove erano rimasti? Qua. Sì, voi sentirete rumori diversi perché ho cambiato il giorno in cui... Sarà una brutta giornata. Andiamo un po'... Ah, comunque, sincero, non li ho visti in serio. Questa si può lootare? Mi sa che non si possa lootare questa roba. Operazione Vittoria Eterna. Che cos'era? Qualunque cosa fosse, non sembra che sia andata troppo bene. Sì, lo so dove andare di là proprio, ma mi giudare un bel po'. Una battaglia... Una battaglia... E' passato. Il titano ha superato le difese. Si sta avvicinando. Ma la merda! È viva! È in ferocità! Non possiamo muoverci da qui, ci si schianterà contro. Difendiamo l'ingresso a qualsiasi posto. Poi passiamo al contrattempo. Lo vedi anche tu, Silence? Silence! Oggi ci siamo proprio... Silence, lo ricevi? Cos'è? Questi soldati... Sono morti qui. La gente muore in ogni momento. Va, trova qualcosa di interessante. Non mi vede un ottimo se c'è qualcosa qua, è un millo? Ok, forse se la parte la taglia, però non lo so. Non mi vede un attimo, questo. Adesso non posso portarlo. E' qui che dormivano i soldati. Come la loggia a cuore della madre, immagino. Diario. La prima battaglia della barriera costiera orientale non fu una sorpresa. È accaduto prima di calmar, e le previsioni erano ben peggiori per l'est. Per tre settimane siamo stati spediti in un borgo sulla costa ad addestrare i miliziani. Pioveva sempre, forse perché l'Europa era in fiamme. Prefabbricati a perdita d'occhio. Quando sferrarono il primo attacco, li stavano ancora producendo. I miliziani ci addestrammo con loro, nei loro quartieri e nelle loro strade. Cercando di convincerci che avrebbero potuto sopravvivere per morire in un posto migliore. Quel che è peggio è che qualcuno se la bebbe. Speranzosi ci tempestavano di domande su Zero Dawn, come se ne sapessimo qualcosa. Giuro che ogni giorno siamo sempre più simili alle macchine. Solo che loro imparano da ogni battaglia. Noi invece... non lo so. Silence, lo ricevi? Cos'è? Questi soldati... sono morti qui. La gente muore in ogni momento. Va, trova qualcosa di interessante. Grazie per le tue mail. Il tempo vola in servizio. Quattro mesi passati con le vecchie glorie. Non so, venti missioni. Avanti e indietro per la costa ovest, al fianco di civili arruolati. Uomini e donne esaltati. In pratica il loro addestramento è... Ecco un Eddie. Quando vedi un bot, colpiscilo. Ma alla fine funziona. Con la sesta BRM abbiamo abbattuto un Oro saliti un bici. Ci siamo ritirati prima che arrivassero i suoi amici. Ma vederne cadere uno grosso. Spero che abbia fatto notizia, tesoro. E che tutti sappiano che potremo cambiare le cose. Dobbiamo solo dare al progetto Zero Dawn il tempo necessario. Poi tutto tornerà alla normalità. Aspettate, ragazzi. Ok. I mobili erano di metallo. Come facevano a trovarli comodi? Era il mondo di metallo. Suppongo fossero abituati. Solo un letto. Era la stanza del loro capoguerra. Allora, qui. Dovevo scendere. Ho una persecuzione che... Vabbè. Ho una cosa dentro che ci sta una boss fight. Non so perché. Luce rossa. Suppongo indichi che l'energia è finita. Ecco. Un'informazione utile. Allora, sopra, sotto, sopra, sotto. Sopra, sotto, destra, e sinistra, destra. Sinistra, e destra. Alla 12. Allinei, tre fonti. Eccone una. Devo rifare un'altra volta. Sopra, sotto. Proviamo sopra, aspetta vediamo un attimo, ho sbagliato, vedo un po', vedete abbiamo una linea che punta in alto, una in basso, una in basso, vediamo un po', è qualcosa di diverso, e vediamo un po' per quanto tempo riesco a capire di cosa si tratta. Qua invece vediamo che cambiano colore, quindi se cambiano colore magari sarà lo stesso, la terza, e l'ultima, sempre in basso, dovrebbe essere. Abbiamo la terza, e sinceramente non ho ben capito come funziona. E fanno due, ancora una. Vediamo un po', da qui no? Forse era questo? Ecco è questo, ascoltiamolo. di nuovo verso. Ovest. Est. E sud. Ecco qua. Est. E sud. Nord. Est. Ah, ma ho sbagliato io. Beh. Ragazzi, allora Nord. Est. Sud. Ovest. Allora ho sbagliato a cliccare uno, cliccare l'altro. oltre. No, ho il cosiddetto. Porco schifo, perchè non me lo dà? Ovest. Po' in two. E' solo G, ecco, quindi, est, ovest, e' solo G. Aaaah, c'è questo qua verso giù? Porco schifo! Questo qua è andare verso giù. Ok, ragazzi, io mi sembra che per ora potrei stoppare qua, parlando che poi si facciamo un bel po' di tagli. Oh, l'ultimamente è l'ultima. Ancora l'eclissi. Deve esserci un'altra strada. Un'altra di quelle verso giù. Ma cosa ne faccio? Ragazzi, questi mi danno un bel po' di funzioni curative, quindi se che qua ci sta una bossfight. Niente ragazzi, quindi secondo me dovremmo fare la prossima puntata. Quindi, c'ho un po' di paura per affrontare, vediamo un po'. Eh si, sono l'eclissi. Ehm, niente ragazzi, noi ci becchiamo domani con la prossima puntata. E' bella! Ciao! Ciao! Ciao!